Ciao da Davide dei Tresciomanti e oggi voglio farvi vedere come sostituire la memoria RAM da un PC portatile. Procediamo. Dobbiamo disporre di un cacciavite e del modulo RAM che vogliamo installare. Questa procedura è valida per tutti i PC portatili, di qualsiasi marca, modello e anno. Sicuramente ci saranno delle piccole differenze su dove sono disposti i componenti, ma poco importa perché la procedura è valida per tutti. Come prima cosa giriamo il PC sottosopra. E osserviamo come è disposto. Vediamo dove ci sono le viti. Facciamo attenzione perché potrebbero esserci dei gommini o delle etichette in plastica che nascondono sotto delle viti. Ma detto questo, facciamo una considerazione. Alcuni PC hanno un vano dedicato per la memoria RAM e per l'hard disk, come in questo caso. Quindi sicuramente sarà un'operazione molto più veloce. Nel caso in cui non ci sarà il vano dedicato, saremo costretti a smontare tutta la scocca inferiore. Per aprire il vano della RAM possiamo osservare che ci sono delle serigrafie che ci aiutano a capire quali viti dobbiamo svitare. Tutti? Tutti meno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per agganciarlo dovremmo premere con le dita, fino a sentire uno scatto. Una volta terminata l'operazione, chiudiamo il vano e il computer riconoscerà automaticamente il modulo RAM installato. Così termina la videoguida. Mi auguro di essere stato utile. Un saluto da Davide e dai tutti i tre sciomanti. Ciao!